Sit-in di protesta dei dipendenti di teatro e servizi davanti alla sede del comune di Chieti. I lavoratori hanno manifestato per ottenere gli stipendi congelati da mesi e pare che occorreva la protesta per smuovere qualcosa. Sembrerebbe infatti che in mattinata siano finalmente giunti i pagamenti. Sì, che abbia provocato il corretto e normale pagamento delle ribuzioni sembra una cosa assolutamente normale, ma ripeto, la preoccupazione sta nel fatto che questa società e la discussione su questa società nei mesi e nelle settimane passate è stato anche oggetto di discussione politica tra le diverse forze politiche e questo a noi ci preoccupa, perché quando poi una società e i lavoratori potrebbero diventare anche merce di scambio rispetto a una crisi o meno noi che facciamo sindacate e quindi ci atteniamo ai fatti a noi preoccupa terribilmente questa cosa. Ma la questione di certo non si risolve qui. La posizione di circa 40 dipendenti rimane a rischio. Non solo. Mentre gli amministratori delegati di teatro e servizi continuano a dimettersi uno dopo l'altro devono ancora essere regolamentarizzati i contratti di 19 dipendenti che hanno vinto l'apposito concorso. Noi chiediamo innanzitutto alla società di cui il comune è socio unico la stabilizzazione o meglio la trasformazione dei contratti a tempo determinato a tempo indeterminato di 19 dipendenti che hanno vinto un concorso e c'è stato un accordo fra le parti e ormai da tempo dovevano essere trasformati questi contratti ma per un rimpallo di responsabilità tra servizi e il comune di Chieti questo non avviene. La situazione rimarrà in bilico finché non si conoscerà il futuro dell'amministrazione teatina. Teatro e servizi infatti è partecipata dal comune di Chieti che ne è socio unico. Questo significa che se il Consiglio Comunale non dovesse approvare il bilancio 2018 e quello preventivo del 2019 teatro e servizi è destinato a chiudere i battenti e circa 40 lavoratori rimarranno a casa.